Ma buon salve a tutti! Oggi siamo tornati con una nuova sfida, una nuova challenge visto che l'indovina il logo vi è piaciuto tantissimo quindi ho detto perché non ripropongo un altro quiz e il quiz che andiamo a proporre quest'oggi è niente po' po' di meno che indovina il film dalla colonna sonora In poche parole, cosa andiamo a fare quest'oggi? Andiamo a ascoltare le colonne sonore e dobbiamo indovinare il film Alcuni sono semplici, altri non sono semplici devo dire la verità I film vanno dal 2000 al 2018 questo è quello che ho trovato ce n'era un altro ma durava un casino di tempo quindi ho detto evitiamo se no qua il video dura 30 anni vi ricordo prima di iniziare di lasciare un bellissimo like di iscriversi al canale se ancora non l'avete fatto importantissimo e di seguirmi su tutti i social vi lascio il tag mi raccomando seguitemi quindi direi subito di andare vediamo un po' quanti film riuscirò a indovinare speriamo abbastanza vabbè questo è semplice Fast and Furious see you again cioè chi non ha mai utilizzato questa canzone come meme easy shrek dai shrek primo il primo mamma mia che feels questo non lo so questo non lo so sarà un film epico non lo so non l'ho mai visto avatar grazie è un film che ho sempre odiato vabbè harry potter vabbè harry potter dai grazie al cazzo è il film più sputtanato di sempre cioè se non avrai mai sentito questa colonna sonora non hai vissuto nella vita ah 50 sfumature è quello dai e indovina e indovina proprio lui vabbè il radiatore l'ho sentito al primo secondo come puoi non indovinare questa colonna sonora è stato un must del cinema un must questo non lo so Ed Sheeran credo sia non lo so che film è questo è proprio sbagliato ma puoi mettere sta canzone all'Hobbit ma che cazzo io mi aspettavo una roba epica e chi lo conosce? so solo il nome del film ma non l'ho mai sentito mai visto vabbè vai Frozen grazie al cazzo mi mette quelle difficili mi mette quelle semplicissime che lo sono pure i bambini è easy che mi aspettavo una roba un po' più complicata ah la donna come si chiamava sto film? si l'ho sentita sta canzone porco due non mi viene il film guardiai nella galassia ma vai a cagare me lo ricordavo sta musica che era diventato un meme e cazzo le film è Disney credo boh e cavolo ne so io di Disney era Disney lo stile è quello aspetta l'ho sentito era il signore degli anelli ecco mi sembrava un po' familiare questa musica ma perché io non conosco i film che è sto film? eh vabbò mi vuoi mettere i film del dopoguerra vabbè dai Mission Impossible eh dai se non indovino questo dai questa la devo indovinare eh non ho mai visto il film lo so sto a memoria la colonna sonora porco due l'ho sentita l'ho sentito questo Pirati dei Caraibi porco due è vero un film sulla marijuana che cazzo è un film su Bob Marley che d'è sto film I am a legend sai che non me lo ricordavo sta colonna sonora di sto film io l'ho visto il film tre quattro volte ma non me lo ricordavo e che cazzo di film che inizia così sì vabbè ma chi l'ha visto io non l'ho visto sincero ma vabbè Jurassic Park dai Jurassic Park è sputtanatissima come colonna sonora è quella rimasta nella storia dai se non sapevo questo veramente mi dovevano sparare questo è Eminem do cacchialoni inserite in che film Venom no hate mile va a cagare mi ricordo che una canzone di Eminem è stato utilizzato in un film che conosco questa canzone ma non conosco il film boh e grazie oddio questa è cosa oddio Arlene Queen come cazzo si chiama il film madonna non mi viene il nome ecco su Sad Squad ecco non mi veniva fa talmente cagare che non mi veniva il nome del film qualcuno ha mai visto sto film ma che cazzo le film mi metti ma chi ha fatto sto quiz ma mi metti i film con colonne sonore sconosciute time la butto lì twilight mamma mia è proprio adattissima sta colonna sonora per twilight ah vabbè Indiana Jones cazzo io non ho mai visto Indiana Jones ma sta colonna sonora me lo sparavo negli orecchi ogni santo giorno è indovina proprio lui ci sono una pippa nei film più recenti boh ah esco il musical se è quello giuro ma io sono un genio ma io sono un genio che poi so pure da dove proviene questa cover e che dè sto film ma che dè cars può essere di cars sta canzone vabbè dai Enrico Vasaio Harry Potter l'abbiamo già sentita prima quindi questa è un'altra versione o credo sia la versione stesa Enrico Vasaio vabbè lo squalo dai non indovinare lo squalo cribbio cioè anche questo usato come meme e io non ho mai visto sto film se non una mezza volta qualche cosa non lo so questo sincero questo non lo so Transformers io mi ricordo un'altra colonna sonora storica di Transformers il padrino il padrino dai e non indoviniamo il padrino colonna sonora italiana italiana cioè non indovinare questo veramente e io l'ho indovinato senza vedere il film cioè cultura musicale avatar sarà di nuovo avatar un'altra colonna sonora sconosciuta mi sembra quello genio un genio oh cristo che cacchio è questo questa colonna sonora l'ho già sentita da qualche parte non mi viene il film no il film non lo conosco Inception no 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 non avrei mai saputo ma Zimmer fa delle colonne sonore storiche vabbè questa è la cavalcata delle valchirie però non so il film sincero non so il film conosco il pezzo mi hai sconosciuto il film beh ovvio non l'ho mai visto Ritorno al futuro no è lui Ritorno al futuro uno dei film che amo la trilogia di film che amo veramente che filza anche questo conosco questo pezzo ce l'ho sentito ma non mi ricordo il film veniva usato come meme anche questo non lo so app è vero porco 2 era app è vero la scena iniziale ah vabbè star wars no superman che star wars questo è superman questo è superman toccazzo mi è venuto in mente star wars non lo so a me è superman pirati dei carabia anche questo prima non l'ho indovinato ma lo indovino sarà lui il cavaliere oscuro vai come sono arrivato ai pirati dei carabia non lo so nemmeno io oddio questo è avengers questo è avengers è avengers è indovina è indovina aspetta l'ho sentito dio è tì è tì vai a cagare è tì mi sembrava troppo familiare va bene raga io direi che per questa sfida posso chiudere qua spero che vi sia piaciuto ovviamente lasciato un like iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto seguitemi su tutti i social importantissimo e scrivete nei commenti quanti film avete indovinato vediamo chi riesce a superarmi vediamo e niente detto questo ci vediamo alla prossima sfida se conoscete altre sfide scrivete nei commenti